Sei un porco, un disgraziato! Ma che sei impazzita, ti giuro, mi devi credere! Ieri sera sono andato con Pasquale! Pasquale! Pasquale e mio cugino siamo andati al cera, insieme! E che film avete visto? Abbiamo visto i travolti del mare azzurro! Ah, travolti, l'hanno il solito destino dell'Azzurro Mare d'Agostro! E perché tu sei tornato alle due? Perché Pasquale ha voluto andare a cera, dopo due anni di carcere aveva bisogno di stare un po' in mezzo alla gente! In che ristorante voi siete stati? A cosa? A Trastevere! Ah, a Trastevere, da chi? Da quello famoso, il Boia! E che vi avete mangiato? Eh, le solite cose! E l'encale! Eh, l'antipasto, il solito affettato, insomma! Il solito affettato, e per primo? Oh, per primo ho mangiato le tagliatelle, quelle alle bolognese! Le tagliatelle alla bolognese, per secondo? Secondo il pollo, il solito pollo! Che parte del pollo, quale contorno e quale dessert? Lala, i finocchi al graté e poi per dolce la torta a margherita Ma adesso tesoro, su, facciamo la pace! Non ti avvicinare per l'amor di Dio! Prima devo controllare con Pasquale! Sì, ah Pasquale, chissà quando lo vedi! Beh! Un momento, che vado io! Abbiamo già dato, eh! Chi era? Ah, niente, era la Croce Rossa! Chi, la Croce Rossa! Ah, caro Pasquale! O che tu ti sei fatto nel naso? Eh, o che tu ti sei fatto! Allora ce ne andiamo al cinema, eh? Ah, ce ne andiamo al cinema? Meno male, va, saranno due anni che non vedo un cinema! Ci siamo andati ieri sera, Alcina! Non ti ricordi? Abbiamo parlato anche di quel lavoro al garage! Ah, 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 ah! Sì, sì, adesso mi ricordo! Siamo stati ieri sera, Alcina! Ah, ah! Vieni, vieni, accomodati! Grazie! Eccoci qua! Vedo che avete fatto Baldoria, eh! Sì, l'ho fatto una sfuriata! Una sfuriata tua! Lo vedete che indovino? Tu li tiravi e lui li beccava qua, eh! Ah, ah, ah! Allora! Allora! Dunque, che film avete visto ieri sera? Oh! Ah! Travolti da un insolito destino nell'Azzurro Mare d'Agosto, 1974. 79 minuti di durata, Italia Technicolor Panavision Stereo. Puoi sapere anche il titolo di coda? No, non c'è bisogno, grazie! Eh! Ma! Avete già mangiato voi? Sì! Sì, sì, ma ci vediamo domani! A proposito! No, 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 a proposito! Dove voi siete stati a cena ieri sera? Eh! Dove siamo stati a cena ieri sera? Eh! Siamo stati al ristorante, ovviamente! Eh! Questo lo so! Scusa, non mi vorrei sbagliare, ma sento che qualcuno me la sta attirando! Senti, Marisa, tu sai il rispetto che ho sempre avuto per te io! Tu la meno qua me l'hai messa tu, non è che io lontano da me ogni... Meglio chiarire! Meglio così! Allora, io vorrei sapere, in quale ristorante voi siete stati? Sì! Oh, voi siete stati sia voi e te! Sì! Un momento che mi ricordo! Ah! C'era un passaggio a livello, questo me lo ricordo! No! Cioè, no, no, vicino al ristorante, c'era un passaggio a livello che... No! Non c'era un passaggio a livello! C'era dunque... Ah! Una mazzetta che abbiamo preso! Guarda! Non si può più andare nei ristoranti! Non ti danno neanche la ricevuta fiscale! Ti danno certe... Niente! Eh... Ah! E' un ristorante in Cappuccetti, Cus Cus Clan, perché c'erano tutti gli occhialetti tipo setta segreta, no? Neanche quello! Sì, poi facevo un caldo di prurito che avevamo addosso! E la bolla... Con l'accetta... Aspetta che mi ricordo perché... No! Il... Il boia... Il boia a Trastevere! Il boia a Trastevere! Io... Oh! Il boia di Trastevere! E che vi avete preso? E che vi avete preso? L'antipasto! Zitto tu! Zitto! Se lo devo dire io, Gaetano, scuso! Qua l'antipasto! Qua l'antipasto, mo! Prosciutto e bellone... Non c'era quello, non c'era, figura! C'era invece il coso che... Ah! Ci siamo lavati le mani perché è un ristorante scicchissimo, eh! Ah! Ah! I dendi pure! Fatti i gargarismi! Perché ti danno loro lo spazzolino! È un ristorante di pazzi! Ti danno lo spazzolino, i dendi fricci e l'affrettato! Affrettato! Abbiamo mangiato affrettato perché lì i tavoli... La gente! Devi prenotare un mese prima! Affettato! Aff... Affettato! Salame e prosciutto affettato! Affettato! Salame e prosciutto! Mmm! E per primo? Per... Boh! Per primo, no! Perché per primo si mangia il primo e poi si mangia le cose! Ah! Meglio che non mi ricordo! È successo una disgrazia! Che gli è successo? Il cuoco proprio disgraziato! Non si è tagliato un dito mentre preparava... No! La meno si è tagliato proprio tutto! Il braccio tutto! Il braccio è spaccato il sangue! C'aveva un coltello così però di disgraziato tutti a piangere i clienti! Di disgraziato il padre di famiglia! Oh! Ah sì! L'abbiamo portata a mano all'ospedale! Manca l'ambulanza! C'era uno scioperato tutto quel giorno! E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola le tonzille che le tagliate... 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 Tagliatelle! E per il secondo? Il secondo! Con calma! Voi state a fare un interrogatore di terzo grade, Marisa? Sì! Io mi devo ricordare pure il secondo! C'è un caldo, guarda, è terribile qua dentro! Il secondo... I denti un'altra volta perché lì ogni tre minuti ti devi lavare i denti! È un obbligo, una fissazione senza... Tendi! E il pollo! Abbiamo mangiato un pollo perché... E il mio marito? Che ha preso il mio marito? Il tuo marito che ha preso? Il tuo marito ha preso... Ah, l'aereo! Il tuo marito ha preso l'aereo... No! Aspetta un momento! L'aereo! Ha preso l'aereo perché il padrone è un pilota dell'Alitalia! È un pazzo! Allora ti fa fare un giro in aeroplano! Tu digerisci il primo! Che parte del pollo l'ha preso? La parte del pollo che ha preso il tuo marito! O che parte di pollo tu l'ha preso? Non fare lo spiritoso! Lala! Lala! Il motore! La coscia! La coscia! Ma l'ho detto il motore perché sai... Per contorno, no! Per contorno, per contorno! Paschino di ghezzo però, Maris, perché io mi devo ricordare pure... Non è che io ce l'ho tutta sulla punta della vita! Per contorno! Per contorno! Oh, il condorno! Che il condorno! Ah, puh, vi devo ricordare, i condorni erano tanti che andavano tutti... Sì, questo l'avevo sempre pensato, da quando era ragazza aveva queste tendenze! Giocavo con le bambole, brutto com'è, giocavo con le bambole! Eh, sì! Erano... Questo è un locale frequentato da gay! No, andravano tutti gay! Due, due gay! Anzi, tre, quattro, mi dico, una flotta di gay che sono entrati nel locale che... I finocchi! I finocchi gay! I finocchi! I finocchi! I finocchi! I finocchi! E meno male che io! E per dolce? Eh? E per dolce? Oh! Il dolce, ma quelle... Lì c'hanno... Guarda che io sono buone care, non esageriamo! Non è che io poi perdo la... Eh? Ah, sì! Lì fanno il dolce, ricamato a meno proprio! Perché la padrona è una ex ricamatrice di Firenze, no? Senti, Marisa, non dare a beare, ma io mi devo ricordare perché... Ma cosa? Oh! Abbiamo sfoglietto... Ah, sì! Adesso mi sto ricordando! Dunque questo, il padrone, c'ha i polli, lo spande! Allora dà un omaggio a ogni cliente, un bollo e tu lo spenni da solo con la... Crudo! Noi, no! Eh, mare! È una torta di mare, mare! Una torta di mare! Era una torta di mare! Questo me lo ricordo perché metto le vongole veraci sopra la torta! È una novità! Le vongole di marmo... Marmo? No! Di mare, marmo! Mare e marmo fanno insieme, sai, con le costi di popaglia e fieno! Fanno mare e marmo e mettono le vongole veraci! L'alimo... Ah, ci... Tua maledetta a me che... Mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto! Che io non la volevo la torta! E chi diceva? Non la voglia! Non la voglia! E a me che sono entrato qua! E tutti i pesci che salgono a galla con la torta di pelle di pollo! E mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta... Tutti quanti i clienti sono entrati... Che erano tutti i clienti ricchioni... E c'era pure il proprietario che era ricchione... Ma il più ricchione di tutto era tuo marito, anziato delinquente! Sì, perché siamo da quattro ore... A parlare di mangiare di tagliatelle di pollo... E di cosce dell'ala e dei motori! E io c'ho fame! Sono due giorni che non mangio io c'ho fame! Io fai voglio mangiare! Ma che stai facendo? Non mi interrompere! Non mi interrompere! Io mi interrompere! Io mi interrompere! Io mi interrompere! Sô bella! Sô bella!